Una pensionata 83enne è stata uccisa con un colpo di pistola e il figlio, un operatore scolastico di 52 anni, si è tolto la vita con il revolver che era del padre defunto. Dopo una notte di interrogatori e verifiche, cambia la ricostruzione di quanto avvenuto ieri sera in via Bachelet, a Favara. La procura di Agrigento, con il procuratore facente funzione Salvatore Vella e il PM Chiara Bisso, sta indagando per omicidio o suicidio maturato in ambito familiare. La prima ipotesi investigativa era stata quella che l'uomo si fosse suicidato e che la 84enne fosse morta per un infarto al miocardio. I carabinieri di Favara e quelli della compagnia di Agrigento per tutta la notte hanno ascoltato più persone, soprattutto l'altro figlio della donna che ha trovato i cadaveri della madre del fratello e ha lanciato l'allarme. Antonia Volpe, pensionata di 83 anni, è stata trovata sul divano della cucina con più coperte addosso. Soltanto quando la salma è stata portata all'obitorio durante la notte è stato accertato dal medico legale che aveva sul petto un foro di entrate e di uscita. Ad ucciderla, come ricostruiscono i carabinieri coordinanti dal comandante della compagnia di Agrigento Maggiore Larrovere, sarebbe stato il figlio Angelo Maria, operatore scolastico di 52 anni, che si è poi tolto la vita utilizzando la stessa pistola. I carabinieri hanno accertato che il revolvere utilizzato dall'uomo aveva la matricola a brasa ed era detenuto illegalmente. Non si trattava dunque della pistola che era legalmente detenuta dal padre defunto, ma di un'altra arma.